Una giornata dedicata al tesseramento, una spinta ulteriore verso le prossime elezioni comunali. La dirigenza provinciale e comunale di Fratelli d'Italia, candidati e militanti si sono ritrovati in Piazza Maria Immacolata per sostenere la campagna di tesseramento 2022 del partito di Giorgia Meloni. Non è mancata la visita del candidato sindaco Walter Musillo, che ha colloquiato a lungo con i rappresentanti di una delle liste forti della sua coalizione. Siamo di nuovo qui in Piazza, come abbiamo fatto già qualche mese fa, per chiedere alla gente di sostenere Fratelli d'Italia con il tesseramento. Giorgia Meloni ci dice che siamo sempre della stessa parte, dalla parte degli italiani. Noi siamo qui stamattina perché stiamo dalla parte dei tarantini e Fratelli d'Italia vuole veramente dare il suo contributo nei prossimi anni qui a Taranto. È un partito che sta tra la gente e per la gente, perché è un partito coerente, perché è un partito che non ha mai tradito i propri elettori. Noi siamo qui stamattina a testimoniare la presenza di un partito che vuole sentire la gente, vuole sentire e cercare di risolvere i problemi della gente. Non siamo il partito delle utopie, non siamo il partito del populismo, siamo il partito della concretezza perché siamo il partito del fare. Lasciamo agli altri le nuvole, lasciamo agli altri quello che possono solo promettere e non realizzare.